salve ragazzi andiamo a vedere oggi cosa sono le radici quadrate ovvero cosa rappresenta questo simbolo che somiglia a una v e che troviamo spesso sia nelle espressioni sia negli esercizi singoli cominciamo col capire che la radice di un numero qualunque che qui ho chiamato a è l'operazione inversa di un elevemento a potenza ricapitoliamo un attimo il concetto di potenza se io ho un numero che qui chiamerò a e lo moltiplico per se stesso tre volte io avrò a elevato alla terza ragionando con i numeri reali se abbiamo un 2 moltiplicato per 2 lo scriverò sotto forma di potenza come 2 alla seconda cosa significa dire radice di 4 significa trovare esattamente quel numero che moltiplicato per se stesso due volte mi dà 4 col 4 è semplice perché so che 2 per 2 mi dà 4 quando siamo quindi in presenza di una radice quadrata mettiamo di un numero come 81 la domanda che dobbiamo farci è qual è quel numero che moltiplicato per se stesso due volte mi dà 81 ovviamente io so però che il 9 per se stesso mi dà 81 deduco quindi che la radice di 81 è esattamente il numero 9 per capire meglio il concetto andiamo a vedere come possiamo ricavare le radici quadrate dalle tabelline andiamo a vedere un metodo semplice per ricavare le radici quadrate dei numeri quelli più comuni proviamo a vedere tutti gli esempi semplici di radici quadrate partendo dall'elevamento a potenza quindi ragioneremo sui nostri numeri più comuni che sono i numeri da 1 a 10 a questo punto eleviamo al quadrato ognuno di questi numeri e in effetti per fare questo lavoro è sufficiente consultare le tabelline quindi 1 al quadrato corrisponde a 1 per 1 è uguale a 1 2 al quadrato 4 e così via 9 16 25 fino ad arrivare al 100 in questo modo abbiamo saputo che il quadrato dei nostri numeri da 1 a 10 è tutto quello che è scritto in questa colonna a destra se ora io dicessi proviamo a fare la radice di 16 io so per certo che la radice di 16 corrisponde al numero 4 poiché 4 è quel numero che elevato alla seconda potenza mi dà 16 quindi possiamo proseguire allo stesso modo per la radice di 25 che sarà 5 la radice di 49 che mi darà un 7 abbiamo quindi dimostrato in questo modo che la radice quadrata di un numero altro non è che il contrario dell'elevamento a potenza con esponente 2 continuiamo a compilare questa tabella in modo tale che avete almeno uno schema dei numeri principali abbiamo detto la radice di 9 è 3 la radice di 4 è 2 la radice di 1 è 1 perché sappiamo che 1 moltiplicato per se stesso mi dà sempre 1 quindi anche la sua radice sarà 1 la radice di 36 ovviamente è il mio 6 di partenza poi abbiamo il 64 che è 8 l'81 sarà 9 e il 100 mi darà un 10 abbiamo quindi spiegato con questo video il concetto base di radice quadrata andremo a vedere nei video successivi le operazioni tra radici e come si fa ad estrarre una radice quadrata di un numero un po' meno semplice di quelli che abbiamo qui portato in esempio spero sia stato tutto chiaro ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao ciao ciao